In vista delle prossime elezioni comunali di quest'anno, il Partito Democratico sta pensando di proporre a Franco Alfieri la candidatura a sindaco per le comunali di Capaccio Pestuma, ciò a seguito della sfiducia al primo cittadino, Franco Palumbo, avvenuta alla vigilia di Natale. Alfieri, che è stato sindaco della città di Agropoli per dieci anni, attualmente ricopre l'incarico di consigliere del presidente della regione Campania per i temi attinenti l'agricoltura, le foreste, la caccia e la pesca. La notizia sta circolando di recente negli ambienti politici del centro della Piana del Sele e fa discutere non poco, visto che lo stesso Alfieri, nell'ultima campagna elettorale, ha spinto per la vittoria finale di Palumbo. Le elezioni comunali 2019 si terranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, nei comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel primo semestre del 2014 ed in quelli alle elezioni anticipate, perché commissarati o per motivi diversi. Così, dopo il ribaltone politico registrato nel voto del 4 marzo scorso e la nascita del governo Lega Movimento 5 Stelle, sarà curioso vedere quale sarà il risultato a livello locale dei due partiti di maggioranza che si ritroveranno come avversari. In particolare, nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni, saranno in tutto 30 i comuni che andranno al voto per rinnovare giunte e consigli comunali. I più grandi, con popolazione al di sopra di 10.000 abitanti, sono Capaccio Pestum e Sala Consilina. I restanti sono quelli di Ascea, Cicerale, Felitto, Gioi, Laureana Cilento, Salento, Castelnuovo Cilento, Omignano, San Mauro Cilento, Torchiara, Montano Antiglia, Albanella, Ottati, Futani, Bello Sguardo, Morigerati, San Rufo, San Pietro Altanagro, Torre Orsaia, Cuccaro Vetere, Casalbuono, Caggiano, Valle dell'Angelo, Torraca, Casaletto Spartano, Campora, Auletta e Rufrano.